Musica Salve a tutti ragazzi, io sono Legomaster e oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video Oggi andremo a fare una challenge, ovvero chi fa più punti arena in una sola partita Ok, io ho 2045 punti, tu invece ne hai? 1950 Ok, quindi direi che possiamo andare in partita e vedere chi vince Ok, siamo appena sul bus, ci hanno già tolto 20 punti per il biglietto del bus Io direi che ce ne possiamo andare Andiamo esattamente qui Ok, siamo atterrati adesso, direi che prendiamo le armi Facciamo tanti tanti mazze e poi speriamo di non trovare player nelle vicinanze E niente, ci vediamo appena trovo qualche player Ah Eh certo Ma comunque non ho finito di registrarlo, sai Cioè non ho stoppato direi che stai Almeno tu c'erai una R Ah sì, più o meno anche io Qui ho Ar bianco Un'intraietta bianca Ok, ci hanno appena dato 10 punti di posizionamento Noi in 46 45 scusa 44 Io non ho fatto niente ancora 43 43 42 42 Doi Quanti siete? Oh sì Vorrei trovare degli shieldini prima di farmi lo shieldone 40 40 Ma lì c'è un cerchino che mi sta puntando, eh Ah no, non è vero Scusa, ho sbagliato 35 Ok Altri 10 punti di posizionamento Comunque Eh, sta partita mi sa che Non dura tanto Io lutterei un pochettino qua Tanto per E poi andrei in safe Perché 34 33 La tua La tua La safe dove è andata? Dove è andata? Da me è a pantano No 32 player Io no Non so se per Ok Altri 10 punti di posizionamento E c'è Qui sotto c'è un tizio Mi sento C'è un motoscafo C'è un tizio Allora 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 Hmm 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 Arriviamo full Full di Ferro Magari Magari Trovarlo un po' di ferro Qui qui Ok Siamo full Ci serve tanta Tanta pietra Oh no È buggato Vabbè Ok Prendiamo questa cesta qui Un giochino No Direi di andare verso la safe Anche perchè È molto lontana Invece non uscio il turn Hmm Sì Sì anch'io Particamano Noi 27 26 Scusa Altri 15 punti No ma c'è un player Ah no Non è un player Il tizio Penso E spero anche Sì 25 player Intervi Beh Eh Ah Eh Un 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 Quindi hai Quanti punti hai adesso? 9-900 Ne Quindi Hai fatto 45 punti Io non ho fatto i 35 punti Devo sperare che muori Io ho 20 punti 22-21 Ok Ok, 45 punti Tu Tu ho 55 punti Ok, c'è un tizio l'ho ucciso Quindi sono a 2100 punti Tu sei morto? Ok Come sempre la safe è lontana Quindi Per fortuna questo qui l'abbiamo ucciso Quindi diciamo abbiamo fatto esattamente 55 punti Sì è un tizio Tu pure? Allora Sono in 16 player noi Allora 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 Altri 10 punti, 65 punti sono gli atto, siamo in 13 player noi Ok, ci sono player qui davanti, cioè c'è un player qui davanti che ha sparato per sbaglio, no c'è uno che plana Ok, per fortuna non mi ha visto Però voglio andare soltanto in safe, però lì ci stanno fightando, io aspetterei dentro questo cespuglio Che appena No, sono morto Ah, che peccato Ok, uno lo... No, sono morto anche io Ok, abbiamo finito tutte e due la partita Adesso facciamo il conto di quanti punti abbiamo fatto Tu eri a 1930 punti, ora sei a... Ok, quindi 2015-1930 tu hai fatto 85 punti Io ero a 2025 e adesso sono a 2110 Quindi 2110-2025 uguale 85 punti E quindi siamo in pareggio Quindi direi che ci rifacciamo più in là con un'altra sfida uguale Vedremo chi farà più punti sempre in arena, in una partita Iscrivetevi anche al canale perché grazie a Youtube ho scoperto che più dell'80% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale Quindi attivate anche la campanella Ok, questa sfida finisce qua Iscrivetevi al canale e lasciate un like a questo video e a tutti gli altri video Attivate anche la campanella per non perdervi nessun video e nessuna live Io ringrazio Domenico per avermi aiutato a fare questa sfida E da Legomaster è tutto E noi ci vediamo con un prossimo video Ciao Ciao